E' meglio riso col bollo o la pizza all'ananas? La pizza all'ananas Ok sono presentati come sono stati più o meno Discreti ok Delle pippe Delle pippe Bella a tutti ragazzi Siamo gli incredibili Bellissimi Eccezionali Pirlas Bellissimi solo io Siamo a Riccione per la notte rosa dove le ragazze sono aperte in tutti i sensi Dove le ragazze ci stanno con tutti Dove la gara di rimorchio sarà eccezionale E' il primo partecipante Abbiamo l'Africa Con questi balletti li allontani E abbiamo due new entry che si sono presentate qui per vincere Ha detto che spaccheranno il vincitore Samuel Abbiamo un bulgaro Butch e il cubano Lele ragazzi Abbiamo Cuba, Bulgaria, Africa Una sfida molto insolita Pierino voleva partecipare ma ha detto no lasciamoli vincere Non voglio fare brutte figure La brutta figura le farai in questa sfida perché sarà la tua prima sconfitta ufficiale Vero ragazzi Tornerai a casa senza niente Andremo dalle ragazze Vi dovrete presentare e loro dovranno scegliere chi di voi ha rimorchiato meglio Come sapete come in tutte le sfide chi arriva per primo a 5 punti vince la gara E iscrivetevi al canale perché chi si iscrive rimorchia Chi non si iscrive più la Sv non rimorca più Andiamo Eccoci qui nella prima mancia Ci sono le ragazze e non ci sono i ragazzi perché hanno paura Li devo venire a tirare io qui Uno, due, tre Allora abbiamo un bulgaro, un cubano e un africano Quindi è una gara molto estera E praticamente si devono presentare Voi dovete scegliere chi è stato il best rimorchiatore Dagli un punto A fine video chi perde dovrà rimorchiare un uomo Ma questa è un'altra storia Allora ragazzi sono Samuel, sono, 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 sono Samuel Sono cioccolata al latte, 100% cacao E vengo dal Ghana, mangio riso col pollo Voi mangiate riso col pollo? No, però L'avete colpito nel profondo Come no? E se mi scegliete ci sarà una bella sorpresa Oh, una grande sorpresa Piacere Emanuele, Emanuele, Emanuele Sono Vuccov, sono il più piccolo però sono il più ballo Oh, è quello con meno parole Perfetto, bravo, bravo Lele, Lele Lele, spegne le candele Sono cubano, ho 18 anni E siete tutte e tre veramente molto belle E spero che mi scegliate Fine? Chi vi è piaciuto di più? Lui? Ok Samuel, va bene Tu invece? Sì, anche per me Samuel? 1 Lui, ok Cuba, quindi 2, 1 e 0 Questo è l'inizio Grazie ragazzi simpaticissime Andiamo con le prossime Nuovo turno, abbiamo trovato delle nuove ragazze Ma soprattutto un nuovo partecipante napoletano Stai posso, guai tu Sei pronto per battere Samuel, guai tu? Normal, qua vinghi Qua vinghi tu, vinci tu Eeeh, stiamo calmi, stiamo calmi Perfetto, vediamo se tu riuscirei a battere Sono loro le ragazze? Sì, sono loro Che belle ragazze Sono africano Se mi scegliete vi porto a fare un bel safari in Africa Ok, emozionanti, insomma A Napoletà, vieni qua Precere, Tony Tony, Tony Se vi piace la Gomorra Scegliete me Se vi piace la pizza non pentate Scegliete me E questo è tutto Se vi piace la pizza all'Anna Scegliete me Vai, lui invece è cubano Quindi passiamo da Cuba a Napoli Lele, lele, lele Sono cubano Ho 18 anni Mi piace ballare Se vi piace ballare dovete scegliere me Siete bellissimi Ti hai degli occhi bellissimi E loro no, quindi, stai dicendo Loro due no Ognuno ha la propria bellezza L'ultimo Siete le tre ragazze più belle che abbia mai visto Esagerato, lo dice a tutti Poi è esagerato secondo me Adesso dovete scegliere Chi è stato il più simpatico Con chi uscireste, tra virgolette Chi ha rimorchiato di più Consultatevi, vai, vai, vai Niente succede Vogliamo darne uno a testa O uno tutte e tre Come volete voi Ognuna deve avere il suo voto La pizza mi ha convinto Ok Quindi il napoletano Un punto Vai, ora tocca a te Beh, io dico lui Perché mi ha fatto Il cubano, lui Grande Cuba Uno, due e due Ultimo voto, vai Africano Africano Che balliamo Va buono Va buono, va buono così Ma Yuki Quando volete una pizza napoletana Venite a domenica Faccio la brecchiva Faccio pronto subito E' buono È meglio la pizza all'ananas Della pizza napoletana Ma offendo Non mi offendere No, è vero A me piace La vuoi Come fa a piacere Giuro Questo Sono io Le ho mangiate tutte e tre Ma questa per me è un'offesa Mi stai prendendo in giro Ah, sei arrabbiato con me Perché non te ne ho lasciata una Scusa Mi voglio Scusa La pizza è buona Che ha la cabumarola Che ha la mozzarella in goppo Ok Fatta a Napoli E' buona Translate Translate Ok ragazzi Siamo qui nella terza scena Con due ragazze Che si chiamano? Alessia Sofia Abbiamo qui questi tre fustacchioni Guardateli Bellissimi Hanno tanti tempo per presentarsi Voi dovete indicare col dito Il migliore Scegli te Chi deve partire Lui Ok Piacere Samuel Complimenti Sei bellissima Piacere Samuel Complimenti Sei bellissima Vengo dall'Africa Siete due bellissime ragazze E mi piacerebbe portarvi con me A fare un giro A fare un safari Sono Lele Sono cubano Mi piacere Lele Mi piace ballare Volete ballare con lui in Hozer Oh È un movimento di bacino Mi piace la baciata Siete bellissime Il numero batte il corazon Hai capito? No Traduci Cuore Mi batte il cuore Vai Piacere Emanuele Piacere Begli occhi Sono bulgaro E Sono il più ballo qui in azzo Quello è poco ma sicuro Eh Ah Se la tira lui Ok Sono presentati come sono stati più o meno Discreti Ok No delle pippe Delle pippe Si confermo Però voi dovete scegliere chi ha rimorchiato meglio Se si può definire rimorchiare Vai indica con una mano chi sceglie Oh Chi ha fatto meno peggio Samuel Attenzione È stato più simpatico Ok Il tuo voto può essere fondamentale Non lo so Vedi te Lui Oh Attenzione Quindi Samuel a 4 Tessa 2 Tessa 1 Qui la sfida si fa molto interessante Quindi grazie mille ragazze Siamo qui nel round che potrebbe essere decisivo La ragazza di rimorchiare è lui Vieni vieni Sto scherzando Vi trovo solo la qualità E che qualità E che qualità Comincia subito così La qualità sta nel cioccolato Perché è made in Italy Già da dove viene questa qualità? No perché è pregiato Sono pregiate loro Sì loro sono pregiate Sì sono sempre così a tutte Però funziona Sono africano Mangio Davvero? Sono africano Oh davvero? Abbiamo capito che sei africano Sono africano Mangio riso col pollo Voi mangiate riso col pollo? Sì sì Aspetta È meglio riso col pollo O la pizza all'anas? Pizza all'anas Oh 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 Wow Basta a casa A casa A casa A casa Io ho finito di parlare Vai adesso al cubano Vai Mi piacere Siamo Lele Sono cubano E con me non ti presenti? Mi piace ballare Siete due grandissime belle ragazze Anche tu lo dici a tutte però No Loro però veramente lo dico Lo penso veramente Spero che scegliate me Perché sono il più bello Uh è più modesto Ma Vucco 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 è un bulgaro Chi mazza sono il più ballo come Notato Punto Qui abbiamo una presentazione molto più esaustiva Una media e una più stringata insomma Che tipo di uomo vi piace di più? Ma è lui Samuel E' il cubano per cui abbiamo un vincitore Riso col pollo Chi è che prendeva qua? Vieni 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 Amici miei Amici miei Ne avete di riso col pollo da mangiare Dai E' il terzo che dovrà fare la penitenza Hai mai rimorchiato un uomo? Si No C'è sempre la prima volta Andiamo Scusa un secondo Ha perso una scommessa lui Deve rimorchiarti Sei bellissimo Troppo cringe Sono io Vai rimorchi a lui Dai dai Sei brutto mi dispiace Vado solo con i belli io Ragazzi se pensate di poter battere Samuel vi prego Candidateli qui sotto nei commenti Iscriveteci su Instagram Chiocciolapirrasv e seguiteci Perché stiamo cercando nuovi candidati per le gare di rimorchio Capace di battere Sam ragazzi Comunque ragazzi non per dire qualcosa ma Samuel di che anno è? Samuel 99 99 Tu di che anno sai? 2007 Lui è in 2007 2007 ragazzi Lui ci sta Ci sta Pirlasv rimorchi sempre di più Alla prossima guys P-I-R-L-A-S-V Pirlasv sempre su YouTube 500k non ci fermiamo Intendiamoci uno dopo l'altro lo facciamo